di un concorso letterario che abbiamo avuto qualche anno fa tra l'altro Patrick, anche un mio libro 12 se volete, è stato insomma, non si sa vabbè, è Tortura dove sono? tutto è confuso strani rumori intorno a me nel dolore nella bocca nella testa un trapano provo a parlare ma non riesco cosa succede? perché questa Tortura? poi ricordo sono una dentista ho una carie vabbè, pazienza